Alice, una bimbetta di 6 o 7 anni, se ne stava in un caldo pomeriggio d'estate sotto un albero con la sorellina maggiore che le leggeva un libro di fiabe. C'era un'aria ferma ed i riflessi del sole facevano socchiudere alla bimba le palpebre. Se d'estate si socchiudono appena appena gli occhi ragazzi si finisce per addormentarsi ed Alice dopo un po' cadde in un sonno profondo e cominciò a sognare. Le pareva di essere in un giardino incantato con fiori stranissimi e dai colori indefinibili. Stava mirandoli quando ecco sbucare da un cespuglio un coniglio bianco vestito da ometto con un grosso orologio fra le zampette. Corriva affannatissimo. Perché corre tanto signor coniglio? Mi aspetti? Perché vorrei venire con lei? Ma se corre così? Perché ho fretta, frettissima, una fretta, ma che fretta? Devo affrettarmi in fretta perché senza fretta non potrei più affrettarmi. Affrettiamoci, 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 affrettiamoci. Avete sentito voi? Così il coniglio che continuò a correre imperterrito mentre Alice curiosissima gli teneva dietro. Lo vide infatti infilarsi in un grande buco ai piedi di un albero. E voi non sareste entrati ma Alice invece non ci pensò due volte. Si chinò e via dentro la buca anche lei. In fondo alla buca ecco una porticina piccola piccola. Apertala ed entrata via fatica e con un'altra ancora più piccola. La bimba cominciò a maltrattare la maniglia e girare la chiave nella serratura. Quando, quando sentì che questa, eh sì, proprio la serratura bambini, parlava. Eh, 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 vacci piano. Eh, ma che maniere sono queste? Ai, ai, mi fai male, mi dai fastidio. Ma allora come faccio ad entrare? Purché ti sbrighi, prendi quella bottiglia sul tavolo e bevini a un sorso. Pronta la bottiglia, via il turacciolo e giù un bel sorso. Incredibile. Alice cominciò a diventare piccola, 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 quasi da non vedersi più. Si avvicinò alla serratura per potervi passare ma la trovò sbarrata. Come faccio a passare se qui la serratura è chiusa? Prendi la chiave che è sul tavolo. Eh, non ci arrivi, eh. Allora mangi un pezzettino di quel biscotto che è sotto il tavolo. Il biscotto? Ah, eccolo il biscotto. Un pezzettino? No, 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 meglio, meglio un bel pezzettone. Ma nei sogni bambini avvengono certe cose, ma certe cose. Alice insomma cominciò a crescere tanto, ma tanto, tanto da sfondare quasi il soffitto della stanzetta. Allora poverina cominciò ad aver paura e quasi quasi a piangere. Accidenti! E adesso? Come faccio adesso? Come faccio? Prendi ancora la bottiglia e bevi in un altro sorso. Ridiventerai piccola e potrai passare. Capito? Questa volta invece andò benone e superata la porticina... Oh, ma che roba! Che roba! Quello era proprio il paese delle meraviglie. Alberi giganteschi, rossi e verdi, foglie bianche e azzurre, cielo rosso. E fra due alberi in fondo il coniglietto con l'orologio che scappava! Scappava in gran fretta e sudatissimo. Alice fece per incorrerlo quando udì ridere alle sue spalle. Si volse e si trovò davanti due nanerottoli semi nascosti tra un cespuglio da cui venivano fuori con la testa ogni volta che parlavano. come ti chiami tu? dici il tuo nome mi chiamo Alice e voi chi siete? io PINCO ed io PONCO fermati un po' a giocare con lui mi dispiace, mi dispiace proprio ma non posso, devo seguire quel coniglio e perché lo segui? perché voglio vedere dove va e cosa fa oh curiosa, 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 curiosa curiosona, sta attento Alice non si fermò neppure si può dire curiosa o no doveva sapere che cosa andava facendo quel coniglio oltrepassati due alberi ecco una casetta minuscola e alla sua finestra proprio il coniglio disperato i guanti, i guanti, i guanti, i guanti, i guanti sono senza guanti, ho sparito i guanti e senza guanti non posso presentarmi con i guanti è tardi, tardissimo, molto, 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 molto tardi Alice allora non perse tempo ed entrò nella casetta con l'idea di aiutare la povera bestiola si vide davanti una scatola di dolci con su scritto mangione uno solo erano così buone quelle cioccolate ne mangiò tre ed immediatamente eccola a crescere nuovamente tanto e poi tanto da cominciare a sfondare le pareti il tetto mentre il coniglio agitando le zampette gridava aiuto, 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 aiuto l'inveccio, 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 aiuto, 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 aiuto oh, oh, siete qua, siete qua, siete qua, come faccio, come faccio, come faccio, come faccio, mandate via quel mostro, quel mostro, quel mostro, mandatelo via, quel mostro, mandatelo via eeeh, non è facile è una sola soluzione bruciare la tua abitazione bruciare la casa? mamma mia, che brutta fine c'era da fare per fortuna una carota lì vicino sembrava dirle di mangiarne un po', un morsettino a bocca storta e finalmente eccola di nuovo piccolissima in un salto fu fuori dalla casetta mezzo diroccata in tempo per vedere il coniglio scomparire per un ghiottolino la piccola allora cominciò a correre, a correre, a correre, ma fu costretta a fermarsi per la grande stanchezza e con quelle gambette così piccole non poteva proprio farcela cadde allora piangente a sedere sotto un fungo no, no non ti spaventare sono un bruco tu chi sei e dimmi perché piangi? sono Alice non vedi come sono cambiata sei cambiata perché? come eri prima? si perché prima ero alta e adesso così piccola sono diventata ridicola ma io non sono lungo più di 8 centimetri e non mi sento affatto ridico piuttosto dimmi che cosa posso fare che cosa posso fare per te? che cosa posso fare per te? Dio mio come ti sei trasformato? ma come hai potuto? vuoi che ti racconti una storia accaduta proprio a me? ahahahahah si si a me in persona Alice il bruco tu lo sai bene non è molto veloce e un giorno avvenne che mi trovai nel bel mezzo di una battaglia si 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 una battaglia una battaglia in tutta regola ingaggiata tra due tribù di formiche giganti pare che alcune formiche operaie si fossero impadronite di picchi di grano preparati da altre operaie dell'altra tribù ed allora era nato il finimondo io mi trovavo proprio nel centro sai e vedevo marciare quei due eserciti l'un contro l'altro che si avvicinavano si avvicinavano si avvicinavano si avvicinavano ecco ecco guarda mi sembra di vederli ancora e di sentire le loro trombe di guerra d'assalto la cavalleria che si preparava i i i i Grazie a tutti. 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 Che cosa avresti fatto tu al mio posto? Grazie a tutti. 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 Approfittando della confusione, Alice se la squagliò e percorso il piccolo sentiero di poco prima, eccola giungere in un gran giardino pieno di rose bianche. Sì, non tutte però, perché alcune erano rosse, ma dipinte da due uomini che si affannavano a far prestissimo questo lavoro. Ma che cosa fate? Verniciate i fiori? E' stato un imperdonabile errore! La nostra regina di cuori ci aveva ordinato di piantare rose rosse e invece noi abbiamo piantato le bianche. E se ne accorge, ci impicca, ci toglie la testa! Uhuh! Ecco la regina! Ecco la regina! Ecco infatti la regina di cuori, secca all'inverosimile e con degli occhietti cattivissimi! Accanto a lei un re piccolo, piccolo, piccolo e dietro un'infinità di carte da giuoco con gambe, teste, braccia, delle carte animate insomma! La regina si fermò proprio davanti ad Alice. Che roba è questa? Dimmi, consorte! Non sai mai niente! Dimmi, che cosa sei? Sono una bambina? Non si vede forse? Bambina? Ma che cosa è una bambina? Allora sono Alice! 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 Almeno sai giocare al croquet? Al croquet? Un pochino, sì maestà! Sì, 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 sì... Siano portate le mazze, le palle e gli archetti! la regina era bravissima ed Alice poverina stava perdendo quando ecco sbucare da un cespuglio il gatto stregato sta attenta Alice perderai e piantala vattene via come osi parlare così alla regina di cuore ma non dicevo a voi maesta parlavo con un gatto stregato a me gatto portatela via tagliatele la testa subito subito mozzatele il capo silenzio ha inizio il processo alla bambina che ha insultato la nostra regina la seduta è cominciata è cominciata è Alice l'imputata che ha compiuto che ha compiuto il misfatto di dire alla regina di cuore sei un gatto ma non dicevo parlavo con un gatto stregato silenzio 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 non ho ancora interrogato avanti avanti il gatto il gatto uscire è stato trovato nessun gatto ho trovato eccellenza ed ho cercato credetemi con tutta coscienza bene bene una bugia ha raccontato Alice che è qui come imputato a me gatto ma non dicevo a voi maestà ha mentito e seguita a mentire io la condanno per questo guardire portatela via tagliatele la testa subito subito mozzatele il capo giusto ma maestà il capo le sarà mozzato giudici obbedite la regina ha parlato questa è perciò la la nostra sentenza che che sia eseguita di di massima urgenza l'udienza è terminata allora Alice rammentò di aver in tasca il pezzetto di fungo come le aveva consigliato il bruco lo mangiò e tornò di statura normale mise le gambe in spalla e via riattraversò il giardino di rose passò sotto l'albero del cappellaio matto dell'eprotto ecco la casa del coniglio e finalmente ecco la porticina dalla famosa serratura intanto l'esercito delle carte viventi si avvicinava e la porticina era chiusa le carte erano a poche centinaia di metri e la porticina non si apriva signora serratura la prego mi lasci passare voglio non uccidermi quando proprio stava per essere catturata ecco finalmente scattare la serratura e la bimba con un salto oltrepassò la porta ma trovò il vuoto e cominciò a cadere a cadere a cadere a cadere precipitosamente verso il basso sto cadendo sto cadendo aiuto dio che paura che paura ma allora ho dormito sì bambini era stato soltanto un sogno e il paese delle meraviglie popolato di tanti strani personaggi solo la fantasia di un pomeriggio caldo d'estate a cadere a cadere C'era una volta un'anatra che aveva covato per tanto tempo con amore delle uova e quando fu l'ora esse si aprirono e ne vennero fuori prima un po' trasognati poi subito vispi ed allegri degli splendidi anatroccoli mamma anatra figuriamoci era felice da non dire e stava per pronunciare la fatidica frase siete i più belli del mondo quando quando si arrestò e si e ha ragione perché da un uovo era sbucato fuori un anatroccolo davvero molto brutto grigio tanto da sembrare sporco e grosso e con degli occhi melanconici da non dire che sia un tacchino e no non può essere un tacchino e poi anche la voce sembra stonata Dio mio come mai può essere accaduto ma le mamme sono mamme questo è il risaputo e la nostra anatra si affezionò anche a quel brutto figlio anche perché condotta tutta quanta la sua nidiata nell'acqua del fossato ebbe la conferma e che no no non si trattava affatto di un tacchino ma di un vero anatrocco sì perché nuotava come tutti quanti gli altri e poi alla fin dei conti anche se era grigio questo non poteva essere una forma di eleganza non furono invece di questo parere i vicini della fattoria che pur facendo i complimenti per tutti quanti gli altri non potessero trattenersi dal giudicare il poverino Dio mio quanto è brutto non si può guardare come hai fatto è semplicemente schifoso e ributtante se non fosse per la parentela che ci lega assenti cara ma è un mio natroccolo come tutti gli altri no 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 a tutti devi essere sbagliata e qui c'è senz'altro un errore io indagherò sai per il buon nome della nostra famiglia intanto guarda levalo levalo di torno che poi mi fa venire certe cose mi fa senso addirittura il povero anatroccolo si guardava intorno smarrito con degli occhi spauriti sì perché non si rendeva davvero conto di tutta quella avversione che gli dimostravano lo beccavano spennandolo lo rincorrevano e quando proprio era fortunato lo schivavano possibile possibile diceva fra sé e sé che il mondo fosse così e sospirava guardando il cielo con due occhi melanconici un giorno che se ne stava solo come al solito a pensare che cosa gli sarebbe accaduto l'indomani si sentì colpito da un calcio dalla ragazza della fattoria anche lei lo odiava allora fu preso dalla disperazione e cominciò a correre a correre a correre senza saper dove ma ma pur di sfuggire quei luoghi dove tutti gli volevano male giunse così dinanzi ad una specie di laghetto rinfrancato si tuffò e si dette a nuotare anche se vogliamo con una certa eleganza e stava prendendoci gusto quando mamma mia che succede questo deve essere il cacciatore di cui parlavano l'altra sera terribile dicevano e ora come faccio come faccio la mamma insegnava che quando si incontra un cacciatore bisogna rintanarsi tra le canne senza muoversi anche se sparano proviamoci un po' gli andò bene soltanto dopo che per un bel pezzo non sudirono più spari con infinite precauzioni sbuco fuori ma non aveva fatto in tempo a prender fiato che si trovò dinanzi che si trovò dinanzi un grosso cane che lo fissava con gli occhi minacciosi allora si vide perduto strinse gli occhi per non vedere il salto della bestia ma siccome dopo un po' non succedeva nulla li riaprì signor cane non farmi del male male io a te ma fossi pazzo fossi ma sei così brutto che al solo pensiero di sfiorarti mi vengono i giramenti di testa via scansati e lasciami passare e sempre più avvilito riprese a correre a correre a correre chissà se altrove l'avrebbero trattato meglio finì così l'estate e cominciò il freddo vento d'autunno una di quelle sere egli vide passare in cielo dei bellissimi uccelli bianchi erano i cigni che volavano verso i paesi caldi l'anatroccolo li guardò stupito come sono belli che ali eppure non li invidio sento come se fossero fratelli loro volano e Dio non ho le ali che mi possono sollevare almeno un poco dalla terra e dal freddo vento d'autunno seguì l'inverno con un vento ancora più gelido cadde molta molta neve la palude si ghiacciò il povero anatroccolo accoccolato sotto gli alberi soffrì fame e i patimenti più terribili stette lì lì per morire non so quante volte ma egli egli però sentiva entro di sé nel suo cuore come come una strana forza allora serrava gli occhi stringeva il becco e cercava di resistere la primavera sarebbe ben arrivata un giorno e la primavera giunse ora la bestiola si sentiva diversa aveva superato un inverno durissimo si sentiva forte scuotendo le ali servide che s'erano irrobustite e quando timidamente abbozzò qualche movimento di volo con una gioia indescrivibile constatò che poteva sollevarsi da terra volo 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 posso volare posso volare si diresse allora subito verso il lago d'un giardino e senza perdere tempo discese in acqua ad un tratto però s'arrestò ecco dinanzi a lui erano due maestosi cigni anzi gli venivano proprio incontro ora mi scanseranno anche loro forse mi morderanno perché belli come sono non vorranno vedermi ma i cigni gli passarono dinanzi lo sfiorarono quasi senza dare alcun segno di insofferenza con naturalezza disinvoltura allora l'anatroccolo chinò il capo e meraviglia non vide riflessa no nell'acqua l'immagine di un brutto anatroccolo grigio ma quella di un candido cigno sì un cigno come tutti gli altri che erano lì nel laghetto provò una stretta al cuore mentre due grosse lacrime gli sgorgavano dagli occhi melanconici fu un attimo però ingoiò il pianto raddrizzò il collo e guardando alto dinanzi a sé s'avviò verso il centro dello specchio d'acqua ora anche per lui che aveva tanto sofferto incominciava la vera vita la vera vita Un re e una regina sbadati si erano dimenticati di invitare al battesimo della loro piccola Isabella la regina delle nevi che era una strega ma più che strega una maga pericolosissima e permalosissima e perciò nulla di strano se essi se la videro giungere di gran carriera alla festa e la udirono pronunciare con voce tagliente come hai potuto dimenticarti re di invitare me, la regina delle nevi al battesimo della tua figliuola non hai pensato l'offesa che mi avresti recato una dimenticanza imperdonabile ti chiedo scusa, mille scuse non so proprio ma avresti fatto bene a pensarci prima perché sai bene che io non tollero questi affronti tu oggi sei felice? io non penso, ricorderai questo giorno con piacere perché io ti punirò ecco porto con me il cuore della tua bimba ti accorgerai che cosa significherà per lei Isabella crebbe così bellissima, sì ma completamente indifferente ad ogni cosa non riusciva ad amare nulla e nessuno molti principi che la volevano in isposa ne erano rimasti invece offesi ed il re un giorno fece perciò bandire un editto ascoltate ascoltate il nostro re promette a quel principe che saprà riportare il cuore della principessina Isabella in possesso della regina delle nevi la mano della principessa è metà del suo regno ascoltate ascoltate cittadini il principe argento vivo di forte braccio avanti vieni avanti nobile principe che cosa ti porta qui ho ascoltato quanto tu hai fatto bandire e sono qui per sostenere la prova ma non ti rendi conto che hai poche probabilità di riuscire e che se non riporterai il cuore di mia figlia ella non potrà mai volerti bene so benissimo che è così ma io voglio sposare tua figlia e riuscirò andrò sulla montagna di ghiaccio e riporterò ad Isabella il suo cuore sperando che poi batta per me argento vivo si mise in mare ma fu colto da una tremenda tempesta e la nave ragazzi naufragò si salvò lui solo dopo aver nuotato per ore raggiungendo una spiaggia sconosciuta fu subito però aiutato dagli abitanti e condotto in un gran salone d'un grandissimo castello ove lo attendeva un uomo alto pallidissimo con degli occhi che bruciavano argento vivo era agitato non aver timore non temere sta tranquillo principe argento vivo qui nessuno vuol farti del male è stata una fortuna che tu sia riuscito a scamparla in quella tempesta tutti i tuoi compagni sono morti intanto intanto tieni bevi al nostro incontro sei un illuso un illuso vedi e non riesci più neppure a guardarmi io 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 riesco voi voi laggiù portatelo via mettetelo nei sotterranei ed avvertite mia sorella la regina delle nevi che il paladino è qui prigioniero portatelo via non riesci più neppure Quando si destò Argento vivo era in una cella altissima con un piccolo finestrino sbarrato molto ma molto in alto allora toccò senza volerlo una medaglietta che portava al collo ed improvviso udì la voce d'un mago suo padrino Argento vivo figliuolo mio sta tranquillo basterà tu apre il piccolo scompartimento che è dietro la medaglietta e prenda la polverina che vi è contenuta padrino mio padrino mio io non so come ringraziarti prendi la polverina Argento vivo e continua il tuo viaggio sulla spiaggia troverai una barchetta piccolissima mettiti in mare e va la polverina la polverina sì sì eccola oddio mi sono trasformato mi sono trasformato se era trasformato infatti in uccello e gli fu facile perciò raggiungere il finestrino e di qui la spiaggia ove era proprio la barchetta preannunciata dal padrino vi salì e in men che si dica si trovò dinanzi ad un'isola su cui troneggiava su di un'altissima montagna il castello delle nevi due colpi d'ala e Argento vivo fu al ponte levatoio e qui meravigliatevi ragazzi s'avvide d'esser tornato uomo entrò in una gran sala e si trovò dinanzi proprio la regina delle nevi so perché sei qui Argento vivo hai osato quanto non so quanti altri sarebbero stati capaci tu ami la principessa Isabella è solo per questo che sono qui ma anche perché sapevo che tu mi avresti compreso il gelo ti è soltanto intorno non nel cuore e forse sai fare dei complimenti ma anche se è così mi sei simpatico eccoti il cuore di Isabella l'ho di già punita per tanti anni prendilo e sappilo custodire bene con il tuo affetto il cuore ha bisogno di calore perché possa battere sempre va ora e corona il tuo sogno i sogni belli vorremmo tutti che saverassero ma quando è destinato ragazzi essi divengono davvero realtà Argento vivo perciò sposò Isabella che aveva ormai ritrovato il suo cuore pieno d'ogni sentimento d'amore e bontà in un tempo bambini che fu viveva un uomo cattivo barbablu aveva sposato pensate sette volte ma il fatto è che sempre la sposa moriva e barbablu piangeva e la seppelliva ne sposò quindi un'ottava e dopo un mese tutto filava si può bendire alla perfezione ma un giorno barbablu con commozione disse alla sposa di dover partire per un affare importante da definire mia cara starò via parecchi giorni e mi spiace di non poterti far venire con me ma cosa vuoi quando si hanno affari da sbrigare è meglio essere soli tu intanto cerca di distrarti di divertirti invita le amiche dai feste insomma fa quello che più ti piace sei completamente libera di scegliere e hai la mia approvazione sin da adesso caro divertiti allora e sta tranquilla tornerò tornerò non appena avrò sbrigato tutto e ti assicuro farò in fretta si si perché non voglio restare tanto tempo sola ah eccoti le chiavi di casa è inutile dirti di dove sono perché c'è il cartellino oh ma c'è anche una chiave d'oro e che c'è di strano una chiave d'oro non hai il cartellino di quale porta è apre una camera disabitata in fondo al corridoio grande non c'è nulla di interessante anzi non aprirla quella porta perché ci sono cose mie e personali e non mi piace che ci si vada non aprirla partito barbablu la sposa cominciò a visitare il grande castello camera per camera e passando dinanzi alla porta della chiave d'oro fu tentata d'aprirla ma poi ricordò le parole del marito e si trattenne la notte però ebbe dei sogni agitati la chiave la chiave d'oro si l'ho fammela vedere eccola e che cosa aspetti perché non apri avanti non temere ma barbablu non vuole e tu vuoi io si e allora apri 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 oddio mio oddio mio che sogni a questa porta è diventata un'ossessione un'ossessione ma perché non la apro ora vado in fin dei conti chi è che lo saprà neppure i servi perché è notte e nessuno mi vedrà le chiavi le chiavi eccole qui coraggio coraggio e andiamo è proprio parecchio che non si apre ma non c'è niente niente oddio mio oddio mio ma che cosa aveva mai visto la giovane di tanto terrorizzante lungo le pareti legati erano i corpi delle sette precedenti mogli di barbablu e in terra macchie di sangue tante tante macchie la poveretta rinchiusa la porta di colpo e di corsa raggiunse la propria camera e solo lì s'avvide che la chiave d'oro che le era caduta in terra era macchiata di sangue cercò di pudirla ma non ci riuscì la macchia s'allargava s'allargava sempre più e il giorno dopo quando barbablu tornò allegro e cordiale la giovane l'accolse con vero terrore Anna eccomi dirittorio hai visto che ho mantenuto la promessa ho sbrigato tutto prima di quanto immaginassi ma come sei pallido figliola ti senti poco bene? no no è l'emozione di rivederti ma sei proprio tanto cara e dimmi dimmi com'è il passato questi giorni? ti sei divertito? hai invitato amici? raccontami eh ah io sono un po' stanco ma che cos'ha in mano? ma niente niente e perché stringi il pugno? ma che idea non lo stringo non lo stringo allora aprilo aprilo Anna la chiave d'oro ma perché l'hai tolta dal mazzo? beh non mi serviva e così non mi doveva servire ed allora giusto non ti doveva servire e allora dammela che cosa aspetti? dammela ecco tieni perché farti pregare tanto? ci voleva tanto poco ma ma vieni qui avvicinati ma perché? perché? ti spavento ora ma se preferisci ma no no se vuoi volevo soltanto farti vedere una cosa che cosa? vedi? che cosa? vedi questa piccola macchia di sangue? questa? beh ci sarà stata ci deve essere stata perché perché tu non sei andata in quella mia camera vero? no e tu mi avevi detto appunto ti avevo detto che non dovevi aprire quella porta invece ma io no no non hai aperto lo so me l'hai detto e allora per premiarti ora ci andremo insieme perché non sarebbe giusto avere dei segreti per te no 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 non ci vengo no non ci vengo questo vuol dire che preferisci morire qui allora perché ora che tu conosci i miei segreti devi tenerli solo è sempre per te no non dirò nulla ti giuro che non parlerò sarò molto come una tomba per sicurezza ti metterò proprio io nella tomba no avanti no ti prego sbrigati a recitare le tue preghiere oddio mio ti do un quarto d'ora di tempo avanti sbrigati no i minuti passano quindici ti ho detto non uno di più oddio mio oddio mio dunque oggi oggi è giovedì mio fratello ha promesso di venirmi a trovare proprio oggi oddio mio oddio mio aiutami aiutami fa che arrivi in tempo fa che possa giungere in questi pochi minuti che mi rimangono hai finito ancora qualche attimo ti prego oddio mio oddio mio ti prego ti prego con tutta l'anima fa che arrivi mio fratello fa che giulio sia qui ora che su ora basta avanti muoviti Anna Anna giulio giulio corri giulio corri mi sta uccidendo corri addannata cerchi di sfuggirmi ma io ti ucciderò anche se giulio il fratello giunto a proposito all'ultimo istante comprese subito ogni cosa ed estratta la spada dopo breve duello si sbarazzò del truce assassino pentiti dei tuoi peccati liberati dall'incubo la signora barbablu visse tranquilla e felice ed anche ricca sì bambini ricca perché naturalmente aveva ereditato tutte le ricchezze del sanguinario marito c'era una volta in una piccola città una giovane poverissima tanto povera che era costretta a camminare eternamente scalza d'estate ed inverno i suoi poveri piedi facevano pena gonfi feriti era rimasta sola e quando un vecchio signore della città chiese al parroco di affidargliela e la fu lieta di entrare finalmente in una vera casa il suo benefattore la colse proprio come una figlia ecco carol tu entri in questa casa come il sole io io ho più di ottant'anni e presto abbandonerò questo mondo ma ma se tu ti comporterai bene tutto quanto sarà tuo e da domani vita nuova la scuola bei vestiti imparerai a suonare il piano e e quando sarà tempo ti formerai una famiglia sii la benvenuta grazie signore a ricorda è che io sono molto religioso e desidero che tu mi accompagni ogni domenica in chiesa ma anche io vado in chiesa veramente una volta ci andavo per chiedere le lemosina ma ma ascoltavo anche le funzioni e ora 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 ascolterai le funzioni e farai le lemosina e per carol ebbe inizio una nuova vita meravigliosa abiti magnifici musica insegnanti a sua disposizione e poiché era intelligente piena di buona volontà non tardò a trasformarsi completamente ora avvenne che un giorno in quella piccola cittadina si fermò niente meno che la regina in compagnia della principessa la principessa era graziosissima vestita semplicemente ma con molto buon gusto e calzava poi delle scarpette rosse così belle ma così belle che carol era rimasta estatica ad ammirarle per un paio di scarpette così avrebbe fatto follie e sì che lei di scarpe ne aveva ma il suo benefattore non avrebbe mai permesso che ne calzasse di rosse anche se la principessa lo faceva con disinvoltura ah peccato proprio peccato ma se avesse approfittato del fatto che il vecchio ormai non ci vedeva quasi più e sì poteva far davvero così infatti riuscì a farsi riportare dal miglior calzolaio della città e a scegliere un magnifico paio di scarpette rosse di fronte alle quali quelle della principessa avrebbero impallidito il vecchio signore non s'avvide del colore carol volle calzarle subito e poiché era l'ora della messa si recarono in chiesa all'ingresso del tempio era un vecchio soldato dalla barba rossa che si sorreggeva su due grucce tese la mano e guardando le scarpe della ragazza esclamò che splendide scarpe da ballo splendide fatte proprio e solo per ballare e sorrise guardando fisso la ragazza carol fece per proseguire ma s'accorse che le sue gambe erano spinte come da una forza ignota a movimenti di danza mentre nell'aria era una musica invitante e la faceva sì resistenza ma in vano i suoi piedi si muovevano da soli e così si abbandonò e prese a piroettare saltare sempre più conquistata sempre più assente ora era dietro la chiesa e si fu costretti a fermarla porla in una carrozza mentre le gambe continuavano a muoversi 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 instancabilmente solo dopo che le scarpe le furono tolte poteva riposare quelle scarpe avevano il dono di far dimenticare ogni cosa un brutto giorno il vecchio benefattore s'ammalò gravemente e data la sua età le speranze di salvarlo risultavano ridottissime carol come non mai si adoprò per curarlo vegliò notte giorno non si staccò mai dal suo capezzale ma un giorno ecco giungere un biglietto azzurro la signoria vostra invitata ad intervenire al gran ballo che si terrà un ballo oh dio mio non so che cosa farei per andarci invece sono costretta a restare qui oh che musica oh che musica ho le scarpette voglio calzare le mie scarpette le scarpette e calzò le scarpette rosse ma contemporaneamente carol cominciò a danzare e tra un volteggio e l'altro uscì di casa aveva dimenticato ogni cosa il suo dovere il benefattore al limite estremo della vita tutto di tanto in tanto tentava di reagire ma se voleva dirigersi verso sinistra le gambe la trascinavano invece dal lato opposto se voleva salire le scale le scarpette famose la facevano velocemente discendere piangeva si disperava cercava di strapparsi dai piedi quelle scarpe rosse ma in vano sembravano fossero tutto un blocco incollate alla sua carne veniva trascinata rapidamente da un luogo all'altro e una notte giunse alla casa del carnefice picchiò all'uscio aiutatemi voi vi prego soltanto voi potete tagliatemi i piedi tagliatemeli ho peccato e voglio pentirmi tagliatemi i piedi piangendo si ritrasse e andò dal vecchio parroco che ascoltatela l'accolse nella sua casa ora i piedi con le scarpette rosse erano scomparsi chiusa nella sua cameretta carol ascoltava l'organo della chiesa e le note le scendevano in cuore come le lacrime che le rigavano le guance smonte addio addio mio abbe misericordia di me quella domenica aveva ripetuto l'implorazione quando ebbe la sensazione che il sole entrasse nella sua stanza oddio mio oddio mio non sono più sola non lo sei mai stata e non lo sarai mai io non posso più muovermi io vorrei dove non puoi tu e dio che provvede sarà lui a venire a te la grazia la grazia ho avuto la grazia ho avuto la grazia e sorrideva e così la trovarono immobile con il viso rigato di lacrime sembrava dicesse nessuno mi parlerà più delle scarpette rosse nelle piccole botti dicono ragazzi ci sia sempre del buon vino che cosa significa lo capirete ascoltando questa storia che vi insegnerà anche se siete ancora molto piccoli ad usare in ogni cosa il cervello questa è la fiaba di tredicino un bambino piccolissimo alto quanto un soldo di cacio ma vivacissimo ed intelligentissimo era l'ultimo il tredicesimo di una lunga schiera di fratelli ma senz'altro il più assennato e riflessivo se non fosse stato per lui che brutta fine avrebbe fatta insieme ai suoi fratellini seguitemi e state attenti il padre e la madre di tredicino e di tutti gli altri erano molto poveri ma ma si volevano bene e di giorni passavano ma ne giunse uno che non ammetteva speranze giunse il brutto giorno della morte del padre pianti disperazione ed il pensiero di come poter sfamare tutte quelle piccole bocche e una donna si sa fa quel che può ma un uomo è sempre un uomo perciò quando giacomo un amico del padre di tredicino si presentò in casa e si offrì di aiutare quella famigliola la povera mamma non esitò di fronte al bene delle sue creature sposò giacomo ed il nuovo papà sembrava fosse davvero buono tanto era premuroso con tutti quei piccoli ma improvvisamente cambiò ed una sera dopo una misera cena quando tutti i suoi fratelli di già dormivano proprio per dimenticare la fame tredicino udì che giacomo diceva alla madre è ora di prendere una decisione non si va più avanti tredici bambini sono tredici bambini mica uno o due non possiamo morire di fame tutti ma che cosa vuoi fare ormai ci sono dio provvederà sono chiacchiere so io che cosa farò invece li prenderò e li abbandonerò nel bosco cosa vedrai che sapranno calarsi abbandonare nel bosco ma sei pazzo tu sei pazzo non piangere non piangere domani domani li porterò con me e finalmente respirerò oddio mio non piangere ti ho detto oramai ho deciso così fu l'indomani ognuno dei bimbi ebbe un pezzo di pane furono messi in fila e con giacomo alla testa e tredicino in coda partirono verso il bosco per far legna così aveva detto il patrigno ma tredicino che aveva ascoltato tutta la discussione la sera precedente non s'era perso d'animo con della farina che s'era messo in tasca tracciava lasciando la cadere in terra la via che percorrevano e che avrebbe con i suoi fratelli perciò facilmente ritrovata una volta che giacomo li avesse abbandonati giunsero così ad una radura il patrigno sorridente invitò i piccoli a giocare finalmente siamo arrivati nel bosco possiamo giocare se volete giocate pure mentre io taglio della legna poi fate colazione riposate attendetemi qui e non vi muovete perché potreste smarrirvi capito tredicino veniamo con te tredicino giacomo s'allontanò e ormai lo sappiamo non sarebbe più tornato i ragazzi giocarono urlarono si divertirono un mondo mangiarono il pezzo di pane con delle more colte su delle siepi ai margini della radura e stanchi si addormentarono sotto un grande albero non vi preoccupate ragazzi troverò io la strada seguitemi e tenetevi per mano stretti stretti e tenendosi per mano tutti gli altri seguirono il piccolo che cerca di qua cerca di là non riusciva però più a trovare la traccia della farina lasciata cadere al mattino perché la pioggia bambini l'aveva tutta portata via voi avreste tremato dalla paura ma non tredicino che calmati ancora i fratelli piangenti si inerpicò come uno scoiattolo su di un albero e ad un tratto gridò ehi ragazzi coraggio c'è un lume in fondo di là andiamo ma non sapete bambini che questa è la casa dell'orco e quando torna se vi vede vi mangia tutti entrate pure e che dio ve la mandi buona i bimbi entrarono mangiarono qualche cosa poi invitati dalla stessa moglie dell'orco si nascosero sotto il grande enorme letto dell'orco giusto proprio in tempo perché ecco come un tuono giungere un omone semplicemente bambini spaventoso che fame che fame che fame divorerei due cori e cinque anzi sei meglio ancora sette agnellini di latte per contorno ma che mi sbaglio sento sento un odore un odore particolare agnellini o profumo di bambini agnellini o profumo di bambini Ognellini, 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 bambini, sotto il mio letto, vediamo, vediamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, tredici, tredici bambini per contornino, e che contornino, latte, e burro, burro, e latte, di sgranacchio, coi vestiti, con le scarpe, ed il cappello, questa è proprio una cuccagna, mentre mio, fatti capanna, voglio prima del buon vino, che mi occorre a stuzzichino, per goder, d'ogni bambino, Vuoi il vino? Il vino? Il vino? Bevve tanto e poi tanto l'orco che finì con l'ubriacarsi, e si sa, quando si è ubriachi, si dorme, e l'omone spaventoso cadde infatti in un sonno profondissimo. I vetri tremavano al suo russare, e fu allora che tredicino, ringraziando i dio per quella pausa concessa, pensò di fuggire con i suoi fratelli. Con le lenzuola del letto dell'orco, che si era addormentato lungo disteso per terra, fece come una corda, aprì piano piano la finestra, gettò al di là del davanzale il lenzuolo arrotolato, lo fissò al battente della finestra stessa, ed invitò i fratelli a seguirlo. Presto ragazzi, uno per uno, in silenzio, per carità! Ma, malauguratamente, con un sussulto proprio in quel momento, l'orco si scosse ed aprì un solo occhio, ma quel tanto sufficiente per vedere l'ultimo bambino scavalcare il davanzale. Quell'orco le aveva tutte, anche gli stivali, i famosissimi stivali delle sette leghe che lo facevano correre più del vento. Per i poveri bimbi non ci sarebbe stata via di scampo, e fu allora che Tredicino salì con i fratelli su di un foltissimo albero. Credeva di farla franca, ma l'orco era di già sotto ad annusare. Siete qui, ben ben vicini, cari cari i miei bambini, oramai non mi sfuggite, ho riposo, che credete? Sol fin quando scenderete? Ah, che sonno prepotente, forse, forse il vino, ma non fa niente, credo che vi stancherete e dal fine scenderete. C'era da attendere? No, 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 no. E Tredicino giocò il tutto per tutto. Scese con i suoi fratellini in silenzio, s'accostò all'orco che per comodità si era sfilati gli stivali, li calzò e vi fece entrare sei fratelli in uno e sei fratelli nell'altro. Poi... Scendiamo via, attenzione, e non spingete. Ma come non spingi? Mi fai cadere, no? Su, piano piano. Su, piano, 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 ora entrate nei due stivali e tenetevi stretti, stretti. Pronti? Via! Devo dirvi che tutti quei bimbi tornarono a casa? È inutile. Certo che vi tornarono e tanto la mamma che il patrigno furono lieti di riabbracciarli perché poi, alla fin fine, Giacomo, il patrigno, non era cattivo e si era pentito di quanto aveva fatto. E non vissero neppure più nel bisogno perché, grazie ai famosi stivali, fu loro possibile guadagnare tanti soldi. Ma, ricordiamocelo, tutto dovuto a quel minuscolo tredicino, tutto pepe e alto quanto un soldo di cacio. Quello che succedeva alla corte di Renardone, ragazzi miei, era roba da matti. Pensate un po' che Renardone, la bontà personificata, doveva combattere con il caratterino di una figlia antipaticissima, tanto antipatica quanto bella, che non voleva, nonostante fosse tempo, sposare. Principi d'ogni paese si erano presentati pieni di buone speranze e se ne erano ritornati afflitti ed offesi. Infatti, nessuno era stato gradito, non solo, ma beffeggiato pubblicamente. Chi aveva gli occhi da civetta, chi era troppo basso, chi troppo allampanato, chi pancione, chi dà la faccia da idiota, chi... Ecco, questo è il punto, anzi, il personaggio che ci interessa. Ognuno, insomma, aveva un difetto. Ed i principi se ne stavano in fila, come nelle riviste militari, e la principessa passava, squadrandoli dalla cima dei capelli, alla punta dei piedi. Giunta di fronte all'ultimo, scoppiò in una gran risata. E questo? Questo che è sempre ingessato? Il principe mento di tordo, mia cara, potentissimo principe. Mento di tordo? Mento di tordo, hai detto? Ma come ci si può chiamare così? È ridicolo, ridicolissimo. No, 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 papà, niente da fare. Questi non mi vanno. Ma figlia mia! Ho detto niente e basta. Mandali via. C'era davvero poco da rallegrarsi. In specie il principe mento di tordo restò malissimo. Sentirsi deriso dinanzi a tutti lo umiliò quasi. Renardone si profuse con tutti in scuse, ma in cuor suo si vedeva benissimo che proprio ne aveva abbastanza. Infatti, non appena tutti quei pretendenti si furono allontanati, con un viso tutt'altro che Gaio, si diresse verso gli appartamenti della figlia. Senti, Angelica. Se hai da propormi altri sgorbi, puoi farne a meno. Senti, Angelica. La mia pazienza ha un limite. Senti, tutti i principi che hai veduto erano nobilissimi, valorosi, ricchissimi, potenti. Non te ne è andato bene neppure uno. Allora vuol dire che per te non sono indicati i nobili. Devi sposare un uomo comune, comunissimo e volgarissimo. Sai che cosa ho deciso? Senti, Babonio. Sai che cosa ho deciso? Che sposerai il primo che domani passerà sotto la mia reggia. Cosa? Ma è pazzesco! Sarà pazzesco, ma ho deciso così. Ma no! E non si discute assolutamente più! Renardone, buono come il pane, quando si impennava diventava addirittura tremendo. Perciò egli stesso si pose alla finestra. E quando un uomo passò sotto le mura della reggia... Ehi, tu! A me? Sì, a te! Vieni dentro e sbrigati! Oh, maestà, io... Lascia stare che non è il caso. Conosci mia figlia? Certo, certo, maestà. Allora ti avverto che oggi stesso la sposerai. La? La sposerai, la sposerai! Hai capito benissimo! La sposerai e te la porterai via. Che cosa fai? Che mestiere, voglio dire? Il legnaiuolo, il vasaio... Beh, un po' tutti i mestieri... Benissimo! Mettila a far legna, a far vasio, che so io, ma portamela via! E promettimi di trattarla male! E perché dovrai? Te ne accorgerai da solo! E vedrai che era inutile te lo raccomandassi! Inflessibile, Renardone presenziò alle nozze. Poi, sempre dalla finestra, salutò finalmente contento la figlia che piangente a dorso di mulo s'avviava verso la sua nuova vita. Ragazzi miei cari, capite benissimo che una punizione peggiore, la principessa angelica, di nome e non di fatto, una punizione peggiore, non poteva averla. A dorso di mulo, a nozze effettuate, seguì lo sposo, che era un uomo comunissimo, con una lunga barba e di pochissime parole. Dopo aver attraversato un bosco, giunsero ad una capanna. Di chi sono queste terre? Del principe mento di tordo. Mento di tordo, hai detto? Sì, hai capito bene. E di il bosco che abbiamo attraversato? Lo stesso. Di mento di tordo? Sì. E quella capanna laggiù? È la mia, o meglio, la nostra. Cosa? Io devo vivere in quella capanna? Meglio lì che fuori, non ti pare? Ma io sono una principessa! Ora sei mia moglie, e la moglie segue il marito ovunque. Ah, non vi dico i primi giorni. La principessa non toccò cibo, non mosse dito, ed il marito lasciò fare. Poi, a poco a poco, le cose cominciarono a prendere una piega diversa. Angelica prese a lavorare. Vi sembrerà impossibile, ma in breve tempo divenne abilissima farfascine che il marito andava a vendere al mercato. E addirittura specialista nel fabbricare vasi di terracotta. E la stessa poi volle andare a venderli, ma, ahimè ragazzi, tutta la sua fatica andò perduta. Un cavaliere di gran galoppo saltò sulla sua mercanzia, riducendogliela in mille pezzi. Chissà come avevi disposto la merce. Ti assicuro che è stato proprio lui quel cavaliere a venirmi addosso. Per poco non investiva anche me. Beh, vuol dire che andrò io ora al mercato. No, voglio tornarci io. I vasi li ho fatti io e voglio venderli io. Altrimenti me ne andrò. Allora vattene. È più di un anno che siamo insieme e non mi hai combinato che guai. Meglio, meglio che tu te ne vada. Hai ragione, hai ragione. È un anno che soffro. Me ne andrò. Magari a far la sguattera a corte di mento di tordo. Il caratterino di Angelica non s'era ancora spento. Prese i pochi stracci e giunse alla reggia del principimento di tordo. L'assunselo come lavapiatti e per giornate intere non fece che questo duro mestiere. Pile enorme di piatti, tanti che sembravano non avessero mai fine. Alla sera, stanchissima, si abbandonava sul pagliericcio che le era stato assegnato e sperava che il giorno dopo le cose fossero mutate. Che scherzi le aveva giocato la sua superbia. Se avesse sposato per esempio mento di tordo, ora sarebbe stata lì, non come sguattera, ma nei saloni vestita di sete e broccati preziosi. In quei saloni dove la sera ci sarebbe stata una grandissima festa. Infatti, c'erano preparativi da sbalordire ed un pranzo da mille e una notte. Angelica, durante le danze, fu punta dalla curiosità e attraversati dei lunghi corridoi giunse alla porta del salone dove erano al colmo le danze. Avvicinò l'occhio al buco della serratura e vide il principe che ballava con una bellissima dama. Si sentì piena di invidia e d'ira verso se stessa. Poteva essere lei al posto di quella. Ah, se soltanto avesse potuto immaginare. Non fece in tempo a formulare il pensiero che sentì una mano sulla sua spalla. Si volse e... Vieni, Angelica, vieni con me. Ma, principe, io sono... La mia lavapiatti, lo so. Ma sei anche... Sono anche? Sei anche la mia sposa. Oh no, io sono di già sposata. Angelica, sei sposata con me perché io sono il taglialegna con cui hai vissuto per un lungo anno fra gli stenti. Davvero? E questo palazzo è tuo. E questo, questo è il tuo appartamento. Entra. Vestiti e vieni dove è realmente il tuo posto. In quest'anno hai dimostrato di saperti adattare e credo ti sia servito per giudicarti e giudicare. Va ora e fa presto. Gli ospiti attendono la moglie del principe. Non posso dirvi che avvennero le nozze perché erano di già avvenute ma che Angelica tenne fede al suo nome ah sì, questo sì ed in ogni occasione aveva definitivamente bandito la superbia che è uno dei mali peggiori che si possano avere. In un paese naturalmente lontano, lontano come tutti i paesi delle fiabe perché se dicessimo vicino, vicino me ne chiedereste il nome non solo ma vi salterebbe forse il ticchio di andarci. In un paese dunque, lontano, lontano c'era una matrigna con due figlie brutte, rissose, ambiziose ed una figliastra una povera giovanetta che all'insaputa del padre veniva trattata in una maniera incredibile come la peggiore delle sguattere pensate la chiamavano in senso di disprezzo cenerendo la poverina andava spesso a piangere sulla tomba della madre ma ahimè ogni giorno le riservava nuovi rimproveri e sgarberie se era così col tempo adattata un bel giorno ecco un banditore del re per le vie del paese ascoltate ascoltate il nostro re invita al gran ballo di corte tutte le giovani del reame tra le convenute l'eccellentissimo principe sceglierà la sua sposa ascoltate 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 il nostro re invita al gran ballo di corte tutte le giovani del reame cenerentola non pensò neppure lontanamente a partecipare a quel ballo solo quando le due sorellastre cominciarono a provare i vestiti e beh che cosa volete senti stringersi il cuore cenerentola il nastro a me la calza subito eccomi presto un momento appena fatto ma sbrigati cenerentola è proprio invidiosa che noi andiamo non è vero è vero invece cenerentola anche se sei invidiosa fa quello che ti si comanda capito si signora madre e non mi chiamare madre si signora ecco sentite come la trattavano e venne il famoso sospirato giorno del ballo ed il momento di partire la vettura s'allontanò e la giovane col capo chino tornò in cucina s'accoccolò presso il focolare tra la cenere quando ad un tratto restò col fiato sospeso nella cucina semibuia si era venuta facendo una grande luce e senza alcun rumore era entrata nella stanza una bellissima fata non piangere cenerentola non sciupare i tuoi begli occhi sono qui per aiutarti vedi con questa bacchetta posso farti ottenere tutto quanto desideri ma la tua voce la tua voce io io la conosco è la voce è la voce della mia mamma mamma fa come se io fossi la tua mamma e chiedimi tutto quello che vuoi si vorrei andare al ballo vero? si ci andrai piccola e sarai la più bella ecco un tocco della mia bacchetta e guardati in questo specchio d'oro dio mio sembra un sogno che splendido vestito che nuvola sui miei capelli non aspettare di più va alla porta c'è una berlina di cristallo che ti attende va ma ricorda di essere qui a mezzanotte in punto non un minuto di più altrimenti l'incantesimo finirà ricordalo va e sii felice intanto la festa la reggia nel grande salone sfavillante di mille e mille luci era il suo colmo dame e cavalieri elegantissimi e su tutti primeggiava il bellissimo principe che non faceva che ricevere sorrisi da tutte le fanciulle non appena giunta cenerentola attrasse su di sé l'attenzione di tutti e si perché tutti si chiedevano chi potesse mai essere certo una principessa tutte le ragazze poi indispettite cominciarono a diventare verdi dall'invidia e dalla rabbia in specie poi quando il principe si inginocchiò dinanzi a lei mormorandole dimmi chi sei non ho mai visto una fanciulla bella come te sei un sogno dimmelo per tutta la sera il principe non danzò che con lei per cenerentola era davvero un sogno ma d'improvviso si scosse udì l'orologio battere dodici colpi mezzanotte temendo di ritardare si staccò dal suo cavaliere e si precipitò per la gran scalinata di marmo alla cui base era il cocchio di cristallo ad attenderla la fretta era tanta e poi tanta che le sfuggì da un piede una scarpetta e dal principe che la rincorreva non restò che raccoglierla in ricordo di quella fanciulla di sogno che non aveva voluto durante la serata rivelargli il suo nome cenerentola in men che si dica si ritrovò nella cucina buia accoccolata accanto al camino con il gattino sulle ginocchia fra la cenere di sempre il giorno dopo un banditore andava gridando per le vie ascoltate 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 cittadini una giovane a ieri sera al gran ballo di corte smarrito una scarpetta un incaricato passerà per ogni casa e la misurerà a tutte le intervenute chi la calzerà perfettamente diventerà la sposa dell'eccellentissimo principe ascoltate cittadini ascoltate e l'incaricato cominciò il lungo giro e finalmente giunse in casa di cenerentola ma certo la riconosco proprio la scarpetta è della mia figliola quale delle due è mia non è vero è la mia a vederla così sembra che non sia di nessuna delle due è quella ragazza là per carità è una nostra sguattera non vorrete non voglio debbo avanti vieni qui oh no signore non voglio è un ordine del re avanti oh ma la scarpetta è di questa fanciulla la calza perfettamente principe vi prego mi hai riconosciuto allora e tu sei quella fanciulla di sogno oh sì che ti riconosco vieni 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 con me non posso lasciare questa casa dove ti odiano ti sposerò ti sposerò se vorrai e spero di farti felice come la tua bontà e modestia meritano e le nozze avvennero con gran fasto e proprio in quel giorno pochissimi istanti prima della cerimonia ricomparve la bellissima fata cenerentola cenerentola sei felice oh mamma mamma mia sei tu dimmi l'importante è che tu sia felice ma che soprattutto tu ti mantenga saggia come lo sei stato sino ad oggi addio amore c'era una volta una vecchia una vecchia tanto cortese e cordiale con tutti ma era vecchia e nessuno simpatizzava con lei abitava una casuppola in cima ad una collina ed ogni mattino scendeva al piano per far provvista di legna e quanto le occorreva tornava a casa carica sino all'inverosimile fascine ceste ricolme insomma un peso incredibile ma nessuno dico nessuno si offriva di aiutarla un giorno ecco passare da quelle parti un bellissimo giovane un principe direte voi eh no 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 ragazzi vi sembrerà strano ma questa volta non si tratta di un principe ma di un continuo cioè il figlio di un conte non si incontrano che raramente continui nelle fiabe perciò state attenti a quanto sta per accadere il continuo dunque bello e forte vede la vecchia carica di tutta quella roba e e francamente si impietosisce le si avvicina oh nonnina ma non è troppo pesante questo carico per voi eh certo certo che è pesante ma ognuno figlio caro porta i suoi pesi nella vita vorresti per caso aiutarmi ah volentieri di cuore oh bene 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 allora a te prendi 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 e uno dietro l'altro tutti i pesanti carichi furono sulle spalle del malcapitato continuo che sotto quel peso si era addirittura piegato in due non solo ma la vecchia ad un certo punto con un salto incredibile montò anche lei sulle spalle del giovane cominciando a frustare farlo con una canna avanti 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 galoppa più in fretta non gliela faccio più non resisto vergogna un giovanotto come te lamentarsi quasi quasi carico ancora qualche cosa avanti poltrone dopo un'ora e forse più di cammino quando proprio il contino stava per cadere giunsero alla casupola della vecchia s'avanzò allora una ragazza anzianotta e brutta figliolina mia vedi vedi questo poltrone mi ha aiutato a portare la roba ma tanto sbuffato che mi viene voglia di chiaricarlo ancora che vuoi restare qui per sempre e ora che tu te ne vada voglio però ringraziarti per quello che hai fatto per me tieni questo vasetto di smeraldo ti porterà fortuna tienilo te lo dono di cuore ed ora va 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 perché non voglio che ti venga la tentazione di restare qui va va via il contino prese il vasetto ringraziò e si incamminò per far ritorno alla propria casa ma non riusciva a trovare la strada giusta girò e rigirò e finì per ritrovarsi alle porte di una grande città chiese allora d'essere ricevuto dal re e fu introdotto alla sua presenza ah fatti pure avanti nobile cavaliere mi dicono che hai smarrito la strada ed io sarò lieto lieto si d'ospitarti finché tu vorrai vi ringrazio maesta e vi prego di accettare questo modesto dono ma sei sei molto molto gentile per bacco un vasetto di puro smeraldo ah davvero un dono da re ma ma che cosa contiene che cosa vediamo vediamo santo cielo santo cielo ma chi ti ha dato questo vasetto chi parla ma maestà io l'ho avuto da una vecchia che dove dove abita dimmi dove abita su di una collina in una casetta ed il contino raccontò tutto per filo e per segno allora il re mandati fuori tutti i dignitari e restato solo con il giovane cominciò a raccontare tu tu devi sapere giovane amico che io avevo tre figlie tutte ugualmente belle buone ed intelligenti ma una la più piccola un giorno mi dette una risposta che io non gradì per la verità e allora irritato la cacciai di casa ma ma subito dopo credimi io mi pentì cercai di rintracciarla ma ma non mi fu possibile ormai sono trascorsi tre anni ed io vivo nei rimorsi più atroci ora tu mi chiederai perché ti ho raccontato tutto questo ascolta ascoltami bene mia figlia aveva una strana particolarità quando piangeva le sue lacrime diventavano perle purissime ebbene sai che cosa ho trovato nel tuo vasetto di smeraldo una perla una lacrima di mia figlia ecco perché tu devi guidarmi a quella casupola abitata dalla vecchia che ti ha donato il vasetto maesta io farò del tutto per guidarvi là ma non mi è parso che ci fosse una fanciulla che potesse essere la principessa vostra figlia non importa comunque tu mi accompagnerai lì e la vecchia ci indirizzerà il re ed il contino non persero tempo a cavallo partirono ma il giovane non ricordava la strada e furono così costretti a lunghi interminabili giri di giorni e giorni una sera il contino stava rinfrescandosi sulla sponda di un fiumiciattolo quando sull'altra riva vide giungere la ragazza della vecchia si ritrasse nell'ombra ed osservò e qui fu la rivelazione la ragazza assicuratasi che non vi fosse anima viva al lume di luna si tolse una parrucca e saltarono fuori dei meravigliosi capelli biondi come l'oro si sfilò una maschera che aderiva al suo volto perfettamente ed apparve la bellezza più pura che occhio umano avesse veduto era sufficiente questo perché il giovane corresse dal re che si era appisolato e lo destasse maestà maestà la principessa la principessa l'ho trovata mia figlia mia figlia e dov'è dov'è dimmi dov'è venite con me venite con me presto presto ma sull'altra sponda del fiume ormai non c'era più nessuno la bellissima fanciulla era scomparsa era scomparsa sì ma la casupola della vecchia non poteva essere distante e finalmente dopo qualche ora di ricerche i due riuscirono a trovarla entrate vi attendevo anzi siete in ritardo maestà accomodatevi sarete emozionato al pensiero di rivedere la figlia che avete scacciato vero? un momento ed ella sarà qui una buonissima ragazza piena di cuore e sentimento quante lacrime ha versato ed io sapevo che il giovane conte avrebbe portato a voi il mio vasetto di smeraldo tutto è segnato nella vita tutto ora abbracciate vostra figlia che lo merita davvero fu così che padre e figlia si trovarono l'uno nelle braccia dell'altra e tornarono alla reggia e durante il viaggio il continuo non mancò di essere galante e all'arrivo di chiedere l'onore di sposare la figlia del re beh poteva il re rifiutare no e le nozze avvennero con le solite grandissime feste e furono felici ed ebbero unica cosa particolare ben ventiquattro figli eh si si sono tanti d'accordo ragazzi ma li potevano mantenere se pensate soltanto alle lacrime versate dalla principessa e che ogni lacrima era una perla di valore inestimabile c'era una volta un uomo che aveva tre figli il più piccolo però non era quello che si dice una cima e lo chiamavano perciò scemenzino anzi di più tutti lo beffavano ed eridevano compresi i fratelli il padre che era ormai in età avanzata molte volte non riusciva a lavorare e si faceva sostituire dai figli il maggiore un giorno s'avviò verso il bosco per far legna e la madre gli preparò la sua brava colazione a base di frittata pane e vino il giovanotto non appena entrato nel bosco incontrò un vecchietto che lamentosamente chiese qualche cosa da mangiare il giovane si rifiutò dicendo che la colazione era appena appena sufficiente per lui ma quando cominciò a maneggiare l'accetta per incidere il tronco di un albero ecco che se la vide sfuggire di mano e ricadere di taglio su di un braccio così ferito tornò a casa e poiché la legna era necessaria toccò così a scemenzino e quando fu nel bosco sotto una grande quercia ecco il vecchietto buon figliolo buon figliolo che me la daresti un po' della tua colazione ma certo certo non è molto ma se riuscite ad arrangiarvi sei molto buono tu e di cuore saprò esserti grato ecco ecco vedi questa quercia taglia la letta alla base e troverai una sorpresa mangiarono chiacchierando e quando il vecchietto se ne fu andato scemenzino afferrata l'accetta cominciò a darsi da fare per tagliare la quercia alla base ci impiegò una buona mezza giornata ma alla fine l'albero crollò scoprendo una gran buca nella quale il giovane con gran meraviglia vide un'oca un'oca viva la prese e notò che l'animale aveva niente meno che tutte le penne d'oro felice come una pasqua se la mise sotto il braccio e raggiunse poiché se era fatto sera un'osteria poco distante buonasera non vi dà fastidio tenere qui con voi quest'oca se volete posso metterli in una stanzina accanto alla cucina li darò da mangiare e potrà essere un po' più libera ah ah si avete avete proprio ragione si 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 prendetela prendetela e fate come avete detto ma ma attenzione non so se ve ne siate accorta ma quest'oca ha le penne d'oro d'oro ma guarda guarda non me ne ero proprio accorta le penne d'oro beato voi che ne siete il padrone certo che io sono il padrone è mia è mia loca datene da mangiare e accuditela mi raccomando non vi preoccupate non vi preoccupate ci penserò io non la perderò di vista un minuto dopo aver mangiato scemenzino si coricò mentre la ragazza portata loca nello stanzino pensava portar via l'animale non si può ma di penne ne ha tante magari strappargliene uno o due ma 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 che succede mi si è attaccata la mano non posso più staccarla non posso più staccarla infatti era proprio così non aveva che appena sfiorato una penna dell'oca che le dita si erano irrigidite e come incollate alla piuma per quanti sforzi facesse la ragazza non riusciva a liberarsi e quando al mattino scemenzino scese per riprendere l'animale non accorgendosi del fatto delle dita appiccicate prese la bestia e se la pose come il giorno prima sotto il braccio avviandosi e senza accorgersi che la ragazza era costretta a seguirlo correndo se egli correva al passo se andava ad agio o saltando anche lei se lui saltava giunsero così in un piccolo paese ed il parroco che faceva la sua passeggiatina vedendo quella ragazza seguire tanto da vicino un giovane prese ad urlare non ti vergogni tu di seguire così un uomo vieni via ti dico padre non posso non puoi dammi la tua mano ma perché mi trascini padre non sono io a trattenervi è l'oca alla quale anch'io sono restata attaccata per carità liberatemi è una parola se è così come dici tu aspetta aspetta che chiamo il sacrestano Luigi Luigi vieni subito ma il sacrestano accorso con ogni buona volontà di liberare il suo parroco restò anch'egli appiccicato mentre scemenzino come non si fosse accorto di nulla proseguiva per la sua strada tra le risate di quanti assistevano a quello strano corteo e cammina che ti cammina ecco una grande città e alle sue porte niente meno che alle porte dunque di quella città era niente meno che il re in persona con accanto la principessa sua figlia bella come il sole ma triste come la notte senza luna e senza stelle erano anni che la povera giovane non riusciva a sorridere ed erano stati interrogati medici di tutto il mondo e maghi ma sia gli uni che gli altri non avevano ottenuto alcun risultato il povero re cercava di distrarla in ogni modo tornei spettacoli viaggi ma tutto questo non faceva che peggiorare la situazione il giorno che scemenzino faceva il suo ingresso in città il re stava giusto tornando da un lungo viaggio poiché tutti ridevano il sovrano si volse e vide scemenzino con loca sotto il braccio e dietro trascinati in fila indiana la ragazza il prete ed il sacrestano c'era da sbellicarsi dalle risa e fu qui che avvenne il miracolo il re d'un tratto udì accanto a sé uno scoppio di risa si volse e come d'incanto come non aveva visto mai nessuno vide la principessa la principessa triste ridere in una maniera addirittura inarrivabile di gusto senza freni allora fu invaso da una gran gioia ed ordinò che quel giovane con loca e tutta la fila indiana fosse portata a palazzo alla sua presenza e così fu infatti in quanto poi scemenzino vista la principessa ne era restato subito colpito oddio se ne era innamorato ecco ragazzi innamorato pazzamente caro 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 il mio ragazzo ma io io ti devo essere grato per quanto hai saputo farmi dimmi dimmi chiedi chiedi quello che vuoi ed io esaudirò ogni tuo desiderio ecco ecco siri io io vorrei vorrei sposare la principessa alla quale regalo sin da questo momento l'oca dalle pende d'oro come 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 hai detto hai detto sposare ma 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 ragazzo figliolo caro sposare mia figlia sì è vero che io ti ho detto che ogni tuo desiderio sarebbe stato pagato ma addirittura voler sposare mia figlia insisto siri sì insisto dato che ormai ho la vostra parola bene bene ragazzo io manterrò sì la mia parola ma tu devi almeno superare una prova e me lo vorrai concedere che io sappia almeno con quale genero avrò a che fare dunque tu dovrai portarmi qui un uomo che riesca in un giorno uno uno solo a vuotare tutte le botti della mia cantina trovalo e mia figlia sarà tua moglie scemenzino era nei guai davvero pensa che ti ripensa per quanto glielo concedeva si intende il suo cervello non proprio di aquila pensa che ti ripensa dunque decise di tornare nel bosco alla ricerca del vecchietto che gli aveva permesso di trovare l'oca detto fatto si pose in cammino e giunse nel punto preciso dove aveva battuta la quercia sul ciglio della buca trovò un uomo che appena lo vide cominciò a lamentarsi oh oh figliolo dammi da bere dammi da bere sono arso dalla sete ho bevuto cento botti di vino oggi e mi sembra di aver ingoiato una sola goccia dammi da bere ti prego accidenti ragazzi non poteva trovare di meglio scemenzino cento botti in un giorno anzi anzi meno di un giorno era proprio l'individuo adatto lo portò a corte lo accompagnò nelle sconfinate cantine del re e quello come se fosse un gioco cominciò a vuotare una botte dietro l'altra preoccupandosi solo che ce ne fossero di pronte altre subito un giorno ma che in poche ore tutto il vino del re era terminato scemenzino felice si presentò al sovrano e a questi non restò che mantenere la parola e le nozze avvennero e nacquero anche molti figli intelligenti per fortuna e quindi poco somiglianti al padre che continuava a girare con l'oca sotto il braccio per giocare scherzi a quanti non sapevano del fatto delle mani che si attaccavano se uno tentava di strappare una penna si ragazzi sono proprio dei soldati che sfidano soldati con tanto di capì divisa in appuntabile fucile con baionetta inestata soldati che come i nostri oggi a volte sembrano tutti uguali della stessa età ma i nostri soldati voglio dire quelli che avete sentito sfilare orora sono del tutto particolari perché non hanno patria ma combattono le guerre che fanno far loro e contro chi fa comodo ai padroncini poiché la nostra storia riguarda questi soldati devo subito dirvi che anche tra questi esistono degli eroi certo magari senza un occhio perduto in una grande battaglia o senza un braccio falciato via da una tremenda sciabolata o senza una gamba ed è importante perché la nostra storia riguarderà proprio un soldatino senza una gamba come l'aveva perduta e beh questo proprio ragazzi non saprei dirvelo ai soldati di stagno può succedere questo ed altro perché questo nostro piccolo eroe è un soldatino di stagno voi oggi forse non giocate più con loro perché i tempi eh sì i tempi sono cambiati ma non molti anni fa per un bimbo avere un piccolo esercito di soldatini di stagno era davvero un sogno grandi battaglie nascevano tra tavolo e pavimento e nella fantasia si realizzavano le grandi imprese dei più famosi generali ma torniamo al nostro soldatino che senza una gamba aveva subito attratto l'attenzione del padroncino un ragazzetto che appunto l'aveva trovato fra tutti gli altri così mutilato cosa farne ma sì mettiamolo di guardia al grande castello di cartone che è lì sul tavolo e mentre la battaglia infuriava sul pavimento il nostro eroe ormai solo cominciò a girare gli occhi dato che non poteva spostare il capo in quanto era sull'attenti a roteare gli occhi per guardarsi intorno c'era il grande castello con ben sei torri a guzze il ponte levatoio su di un fossato fatto con uno specchio e sulla grande porta d'ingresso una piccola ballerinetta con le braccia rivolte verso l'alto ed una gamba graziosamente sollevata era lì in equilibrio sulla punta di un piede tutta velata di tulle bianco e con una sciarpa azzurra fissata da una stellina d'oro il soldatino la fissava estatico oh sì quella sì sarebbe stata una sposa davvero desiderabile ma che cosa stava accadendo accidenti tutti quei colpi con la loro scossa avevano mosso il congegno della ballerinetta che al ritmo di una musica dolce aveva preso a ballare ogni volta poi che passava gli rivolgeva lo sguardo anzi no meglio un sorriso il soldatino non stava più nella pelle avrebbe voluto precipitarsi verso di lei ma ma che cosa volete era sempre sull'attenti e voi sapete che quando si è sull'attenti non ci si può assolutamente muovere oh ma gli sorrideva che torrottura non poterla avvicinare ma che cosa succedeva oh la musica era terminata e la ballerinetta e la ballerinetta ora gli volgeva le spalle avrebbe voluto chiamarla ma ma ora ecco avvicinarsi il suo padroncino aveva riposto tutti gli altri soldati nella scatola l'aveva guardato e e poi e poi si era allontanato chiudendo la porta al mattino il ragazzo entrò ancora nella stanza dei giocattoli aprì la scatola dei soldatini li dispose in ordine di battaglia quindi suonò la tromba di battaglia ma poi pensò che una vedetta sulla finestra poteva starci davvero bene afferrò allora il nostro eroe e lo piantò sul davanzale la battaglia era incominciata da qualche minuto quando un colpo di vento fece cadere in strada il povero mutilato che restò infisso al suolo con la punta della baionetta guarda e guarda c'è un soldatino gli faccio una gamba lasciamolo lì no ma cosa dice lo imborchiamo il ruscello sulla barchetta di carta certo è un'idea c'era ancora un po' di vento ed il ruscello era tutto mosso il nostro soldatino vedeva delle grosse ondate aggredire la piccola fragile barca di carta ma ora che cosa succedeva non c'erano dubbi la barchetta si era rovesciata ed egli andava a fondo a fondo a fondo a fondo roteando lentamente ma che cos'era che cosa succedeva ecco un enorme pesce si avvicinava brontolando un boccone un boccone colorato bene bene ben arrivato un risucchio e oh l'ho ingoiato il soldatino continuò a starsene rigido nella sua posizione marziale però però fu per breve tempo perché anche un esca con un amo venne ad aggiungersi a lui e dopo poco si sentì sollevare eh sì il pesce era stato regolarmente pescato e di lì a poco fece la fine che tutti conosciamo cioè fu venduto e posto sul tavolo di una cucina una trafittura acuta ed ecco oh finalmente la luce guarda guarda ma non è il soldatino che andava cercando il nostro piccolo non ha una gamba oh finalmente eccola lì lì sì la ballerinetta gli sorrideva gli sorrideva contenta di averlo ritrovato il padroncino quel giorno era cattivo sì di cattivo umore perché ad un certo punto prima se la prese con pinocchio e lo sbattacchiò di qua e di là poi prese il nostro povero soldatino eroe di tante silenziosi avventure e lo scagliò con violenza tra le fiamme tra le fiamme del caminetto addio addio ballerinetta con le braccia rivolte verso l'azzurro del cielo addio veli bianchi addio stellina d'oro oh ma no ma no ma questo era impossibile ma come anche lei sì lei la piccola ballerina era scivolata tra le fiamme e questo questo l'aveva fatto per lui per essere con lui la sua musica fece udire ancora ancora una volta qualche nota poi poi cessò al mattino sulla cenere la vecchia domestica trovò un cuoricino di stagno e una stellina d'oro quando sarete grandi ragazzi voi vi sposerete sarete felici ed avrete molti figli che giocheranno così come fate voi oggi allora vi accorgerete che eravate un po' cattivelli soltanto allora però quando cioè sarete papà o mamme beh ma questo non c'entra o meglio c'entra perché per voi sposare sarà una cosa semplice e commovente soprattutto semplice beh voi mi direte perché non è così sì sì è così ma non per tutti però per esempio siete principi voi? no ecco perché allora mi fate questa domanda perché per i principi invece anche le cose più semplici diventano complicate difficili per voi sposare sarà semplice ah ma non lo era mica per il principe Zuccone sentite che nome strano sì non lo era no e sapete perché? perché Zuccone figlio del famoso re Prezzemolo e della graziosa regina Cipolla desiderava sposare sì ma ma una vera principessa e non credeva che di autentiche ne esistessero molte anzi per essere più precisi non ci credeva affatto prese così a viaggiare in lungo e in largo per il mondo e dopo un lungo giro fece sconsolato ritorno a corte padre mio padre mio mio re nulla proprio nulla ma che cosa mi dici Zuccone figlio mio intelligentissimo e di letto che cosa mi dici mai mi sembra impossibile che in tutti i paesi in tutto il mondo che hai girato tu non abbia trovato eppure sono amareggiato e pensieroso sì pensieroso rifletto rifletto no 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 non sforzarti Zuccone mio caro no non sforzarti ti ricordi Prezzemolo quando ero un bambino come sorrideva sempre certo certo era piccolo e non capiva vero figliuolo mio di letto che cosa mio re ascoltami Zuccone mio caro ascoltami tu vai cercando moglie è vero certo padre molto bene hai visto che capisce ho visto ho visto una moglie da sposare ma certo come potresti chiamarla moglie se non la sposassi non si chiamerà moglie ma non so oppure Zuccone ascoltami signore sono tutte orecchie sì sì in quanto d'orecchie non si può dire che madre natura sia stata vara con te figliuolo mio caro dunque mio volonteroso figliuolo oh signore io di volontà ne ho molta meglio meglio così ma lasciami parlare sono tutto orecchie oh che obbedienza che animo angelico ascolto tuo padre Zuccone mio caro sì madre mia lo sto ascoltando e farò tesoro di tutto quanto la sua esperienza mi 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 di mi di mi dirà vi sentite male madre mia ma no sto benissimo perché avete detto a no animo angelico mia mi dirà stavo suggerendoti e chi te lo dirà ma tuo padre no e che ti dirà ma no ma no ma no tu stavi dicendo che farai tesoro di tutto quanto la mia esperienza ti dirà oh ascoltami allora sono tutto orecchie e aprili bene una volta per tutte tu vuoi sposare vero non mi dire di sì che lo so già vuoi sposare e non trovi una principessa di sangue che faccia per te è così? sì signore ma non di sangue è di carne ed ossa volevo intendere nobilissima si capisce che deve essere in carne ed ossa dunque tu non la trovi perché non credi che siano principesse appunto nobilissime ne hai vedute tanti in questo tuo giro intorno al mondo e se non hai creduto no 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 non ho creduto mi dicevano certamente delle bugie ma che cosa ti dicevano? mi dicevano che sì sì loro erano principesse e allora se te lo dicevano ma io sono intelligente e se lo dicevano voleva dire che non lo erano beh tutto sommato può essere una finezza cerebrale l'osservazione del nostro zuccone mi sembra da considerare come una prova di raro intuito raro intuito dunque non hai trovato e ora dimmi come si fa come si fa? no dimmi come si fa come si fa come si fa no basta 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 chiedo come si fa a trovarti una sposa che ti possa piacere come si fa avete sentito ragazzi che la cosa era tutt'altro che semplice zuccone lo avrete capito non era proprio una gran cima di intelligenza e per di più si era fissato che non era possibile trovare una principessa principessa insomma reprezzemolo per non smentire il suo nome preoccupato ficcava il naso dappertutto e la regina cipolla per non essergli da meno piagnucolava sulle disgrazie del figliolo avrebbero continuato così per un bel pezzo se una sera mentre si era scatenato un tremendo temporale non avessero sentito picchiare alla gran porta della reggia i servi corsero ad aprire e bagnata sino alle ossa alla porta era una fanciulla bellissima i servi si affrettarono a farla entrare e così come era un vero lago d'acqua fu accompagnata dal re prezzemolo che non perse l'occasione per informarsi sino ai minimi particolari poveretto poveretto ma guarda un po' hai sentito cipolla moglie mia dilettissima ma non piangere ti prego perché la nostra ospite è viva e non è successo nulla di grave tranne di aver smarrito la strada dimmi graziosa anzi graziosissima fanciulla chi sei? sono la principessa delicata figlia del re incomodo e della regina incontentabile per bacco per bacconissimo per denci baccuna una principessa sì zuccone figlio mio dilettissimo hai sentito bene? e guardala come ti sembra? bagnata padre zuccone ti prego osservala bene credi che sia una principessa autentica o pensi? penso pensi che cosa? quel che devo pensare padre e che cosa devi pensare? ecco questo è il problema che cosa devo pensare? zuccone basta ascoltami e non dirmi che sei tutto orecchi perché lo so già ascoltami bene questa è una principessa ti piace sì o no? beh è bella sì ma ma così bagnata ma non devi mica sposarla così bagnata credi che possa piacerti? credo di sì io sia lodato e e allora mia graziosissima principessa delicata immagino vorrai riposarti è solo questo che chiedo un letto comodo ti sarà preparato pensavo io zuccone mio diletto a stabilire se questa fanciulla è o non è una principessa autentica metteremo sul suo letto venti materassi di piume e sotto l'ultimo un piccolo pisello vedremo vedremo se la sua sensibilità sarà tale il letto della principessa venne preparato dalla stessa regina cipolla che dopo aver sovrapposti ben venti materassi di piume sotto l'ultimo mise un piccolo pisello fatto questo augurò la buona notte alla fanciulla e si ritirò al mattino la principessa comparve nella sala del trono piuttosto stanca mia carissima principessa mi augur abbiate riposato bene oh per carità maestà per carità oh non mi è riuscito di chiudere occhio e come mai mia cara non lo so nonostante il letto fosse comodissimo sentivo come un qualche cosa che mi premeva sulla schiena ed allora figliola mia cara figliola mia cara permettimi che ti abbracci perché tu sei la prima vera principessa che varca la nostra soglia sposeresti mio figlio zuccone tuo figlio e perché no basta che non parli padre credi vorrà sposarmi ma se lo ha detto ora quando in questo momento beh ora debbo decidere io ho deciso io ho deciso io tu la sposerai e non parlare perché se ti senti ancora non se ne fa più niente ma dove vai a ritrovarlo una principessa così delicata di nome e di fatto si sposarono e furono felici anche se zuccone non brillava proprio di vivida intelligenza beh certe volte chi si accontenta gode così almeno dice il proverbio e anche voi ragazzi accontentatevi e e fate i buoni e e per carità che non vi venga la tentazione di mettere i piselli sotto i materassi dei vostri genitori eh c'era una volta non ricordo più quanti e quanti anni fa ed in quale paese c'era una volta un grandissimo re grandissimo non solo perché potente ma anche perché giusto onestissimo ed amato dal popolo come oggi non si immagina neppure lontanamente era l'amirazione di tutti gli altri regnanti che venivano spessissimo a riverirlo e re Guglielmo era splendido perché offriva dei ricevimenti da miglia una notte vale a dire roba mai vista dava consigli che tutti stavano ad ascoltare a bocca aperta tanto erano saggi e da chiusura di ogni festa guidava gli ospiti verso le scuderie ma dov'è il famoso somaro maestà capisco la vostra impazienza sembra che del mio asino si parli un po' eh non è così veramente si maestà si dice faccia ed è così fa 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 non sono l'ora di cerie verità il mio somaro e anche ora di così potrebbe dunque dovete sapere che in quella reggia viveva non solo il re ma anche una bellissima regina ed una splendida principessa quando un brutto giorno la povera regina morì fu un giorno tremendo per il povero re pianti strilli grida di dolore una cosa terribile e da non saper raccontare nessuno riusciva più a parlargli neppure la povera principessa che senza la madre si sentiva perduta niente insomma riusciva a scuotere il povero uomo una mattina però il primo ministro corse nell'appartamento reale con il viso trasfigurato maestà maestà non voglio vedere nessuno non voglio parlare con nessuno lasciatemi nel mio dolore niente mi interessa ma si tratta del somaro maestà del somaro del somaro che cosa è accaduto alla mia bestia una cosa terribile mai verificatasi da dieci anni in qua la greca impossibile maestà sarà un caso speriamo sia soltanto una combinazione non è possibile in dieci anni non si è mai verificato e come faremo ora maestà io io direi ma che ma che le chiacchiere del ministro che cercava di adolcire la disgrazia reguglielmo non le ascoltava neppure vedeva tutto nero insomma direi che il dolore per il somaro era diventato di gran lunga superiore a quello della morte della povera regina non solo ma le cose finirono per complicarsi ancora di più quando il primo ministro si presentò in forma ufficiale un brutto mattino maestà 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 dovete scusarmi ma ho un incarico il somaro niente 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 maestà il popolo mi incarica di dirvi che desidera una nuova regina che possa darvi un figlio maschio ma come dinanzi alla disgrazia del somaro mi si viene a parlare del matrimonio e di figli maschi è necessario maestà sì il popolo ha i suoi diritti e voi dovete ascoltarlo reguglielmo era disfatto e non sapendo proprio come regolarsi mandò a chiamare una specie di stregone che godeva la fama di grande saggio e riusciva a vedere il futuro quello strano individuo giunse a tarda notte mentre di fuori si era scatenato un furibondo temporale mi hai fatto chiamare reguglielmo sì tu sei di certo oh io so sempre tutto tu sei rammaricato per il tuo somaro vero ebbene se farai quanto ti dirò l'asino tornerà ad essere quello di prima anzi non appena ti sarai deciso questo avverrà devi devi sposare la principessa tua figlia mia figlia ma è pazzesco come osi dire a me una cosa simile sei pazzo ti farò ammattare il capo guardiere ma maestà il somaro così resterà come ora e tu sarai finito lo sai alla fin dei conti a te piace tua figlia vero? guardami guardami Guglielmo guardami dagli occhi fisso fisso ma ma io si 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 guardami tu vuoi sposare tua figlia vuoi 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 pensate dunque in quale condizione di animo si trovò la principessa quando chiamata dal padre si sentì fare quella tremenda proposta di matrimonio pianse si strappò i capelli passò ore e ore a singhiozzare e ad invocare la sua povera mamma finché una sera vide improvvisamente spalancarsi la finestra e comparire l'ha fatta Lunetta la sua protettrice tu domani andrai da tuo padre e gli dirai chi ha consente alle notte ad un patto che egli ti faccia dono della pelle del suo asino famoso che sai bene da quando lui ha deciso di sposarti è nuovamente tornato ad essere prodigioso e tu credi ma certo ma come puoi pensare che tuo padre uccida quella bestia miracolosa fa così come ti dico bimba mia e vedrai che tutto si accomoderà ma le fate le fate non sempre per fortuna ma qualche volta sbagliono e con re Guglielmo si era proprio sbagliata infatti quando al mattino la principessa andò a chiedergli la pelle del somaro restò prima un po' perplesso disorientato poi forse perché vittima del perfido stregone che voleva la morte dell'asino con un sorriso rispose non posso negarti nulla mia cara avrai la pelle dell'asino prima di sera e fra una settimana celebreremo le nozze alla sera la pelle del somaro era nella camera della principessa che alla sua vista cominciò a piangere tanto disperatamente da far compassione ai sassi naturalmente fatta lunetta che era invisibile nella camera di colpo le si presentò piangi e perché questa pelle è la tua salvezza mettitele indosso ed approfittando della notte esci di città e corri lontano più che puoi e ricorda di non togliertela mai all'infuori di quando sarai sola Annabella ricoperta da quella pelle era davvero allontanante anche perché si era sporcato il viso di fuligine uscì di città senza essere riconosciuta e si allontanò quanto più poteva camminò ininterrottamente dieci giorni e dieci notti sin quando giunse stanca morta lo potete ben immaginare in un casolare di contadini andò incontro ad una donna che in un primo tempo si spaventò quasi mamma mia mi hai fatto paura ma come mai hai questo strano vestito non ne ho altri ho molto freddo vorrei poter lavorare perché ho molta fame se vuoi signora abbiamo sempre del mangiare per chi vuol lavorare cara pelle d'asino entra entra e resta con noi la chiamarono così pelle d'asino ci scherzavano su ma nessuno le si avvicinava tanto era brutta così conciata voi pensate che Annabella sarebbe riuscita a passare inosservata per sempre eh no no non può essere perché allora la fatolunetta che ci sta a fare la fatolunetta vegliava ed ecco un bel giorno indirizzare un principe verso il casolare proprio mentre Annabella sicura di essere sola sulla sponda del fiume si era per un po' tolta di dosso la pelle i suoi capelli biondi sfavillavano al sole e il principe si arrestò colpito ma che poteva essere quello splendore fece per avvicinarsi ma Annabella si avvise di essere spiata e come un fulmine si ricoprì della pelle e fuggì attraverso il bosco e raggiunse la casa dei contadini salì le scali e si rintanò nella soffitta il principe l'aveva seguita ed una volta vista dove era entrata si avvicinò ditemi ditemi buona donna chi è quella ragazza ricoperta da quella pelle sentite che cosa aveva combinato fatta lunetta ora il principe voleva vedere Annabella devo dirvi che successe poi è inutile penso quando si incontrano due giovani belli e principi che cosa fanno beh almeno in questa favola si sposano e vivono felici per cento anni con tanti tanti figli anche se si intende bellissimi ma in quella reggia fu riservato un posto d'onore sapete anche a che cosa alla pelle si alla pelle d'asina che aveva permesso ai due giovani di incontrarsi nel fondo del mare c'è un grandissimo castello di alve abitato dal re degli abissi e viviveva insieme a tante altre sue sorelle una piccola sirena era bellissima dolce ma ahimè ragazzi anche lei metà donna e metà pesce voi dovete sapere che le sirene proprio per legge del re degli abissi non potevano raggiungere la superficie del mare se non dopo aver compiuto il sedicesimo anno e vi lascio perciò immaginare con quale ansia venisse atteso quel giorno la nostra sirenetta quando finalmente giunse il suo turno fu chiamata dal re degli abissi che così le parlò ora tu salirai alla superficie del mare sirenetta vedrai cose nuove e meravigliose ma ma sta attenta gli uomini sono molto strani sembra che facciano del bene mentre pensano al male sta attenta e sii saggia ed ora va che è la tua ora la sirenetta ansiosa così com'era aveva sì e no ascoltate le sagge parole del re con un rapido guizzo e fissando verso l'alto si allontanò e cominciò a salire a salire a salire e man mano il mare prendeva a colorarsi mentre un chiarore lontano aumentava 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 un ultimo colpo di coda ed ecco la superficie del mare dio mio oh dio mio che splendore ma che cos'è quella cosa laggiù che galleggia quella cosa laggiù che galleggiava eh sì ragazzi voi lo avete di già compreso era una nave e la sirenetta come attratta le si avvicinò gettando uno sguardo poi nell'interno di una cabina questi sono gli uomini oh che splendore quello alto e che sorriso oh dio mio oh dio mio deve essere una tempesta chissà che cosa fanno gli uomini quando c'è la tempesta s'era scatenato infatti un fortissimo vento ed onde gigantesche cominciavano ad aggredire la nave che che presa in un gorgo colò a picco la sirenetta guardava tutto con occhi sbarrati e soltanto quando s'accorse da avere a pochi metri da sé il corpo del bellissimo giovane che l'aveva colpita prima si scosse e presolo per le spalle nuotando velocemente lo trasportò a terra d'un tratto da una casetta poco distante ecco uscire una giovane che visto quel corpo sulla spiaggia si precipitò ad aiutarlo la sirenetta intanto si era nascosta dietro uno scoglie e vide che dopo vari movimenti il giovane cominciava a muoversi allora una gran gioia l'invase ma ma fu di breve durata perché quel principe era un principe si capisce il bellissimo giovane credette fosse la giovane della casetta ad averlo salvato e dopo averla ringraziata prese una barca e spiegata la vela si diresse verso il largo la sirenetta allora cominciò a seguirlo e dopo due giorni e due notti ecco un'isola e su di una roccia un magnifico castello non appena giunto a terra il principe fu accolto da grandi manifestazioni di gioia e furono subito indetti grandi festeggiamenti che cosa avrebbe mai potuto fare ora la sirenetta nulla e tuffatasi tornò al castello del re degli abissi che sembrava proprio la tendesse so bene sirenetta che cosa hai visto e che cosa vuoi ora io amo quel principe mio re sento che morirei senza di lui ma non posso presentarmi così vorrei anch'io due gambe per poter camminare sulla terra se è così che vuoi va va dal tuo principe non appena giunta sulla terra avrai le tue gambe ma in cambio dovrai darmi la tua voce resterai muta per sempre l'essenziale è che io possa vederlo fu così infatti perché non appena venuta nuovamente alla superficie e aver nuotato per due giorni e raggiunto il castello del bellissimo principe si accorse con gran meraviglia d'avere le gambe proprio come tutti gli uomini e di poter camminare la bellezza della fanciulla era così sorprendente che il principe restò estasiato tu non puoi parlare ma io comprendo dai tuoi occhi che mi farai felice ho solo un rammarico quello di non poterti sposare perché ho promesso che porterò all'altare la fanciulla che un giorno mi salvò dalla morte dopo una tempesta la povera sirenetta non poteva parlare avrebbe voluto dirgli che quella fanciulla era lei sì proprio lei ma sentendo che il giovane sarebbe stato felice con colei che credeva gli avesse salvata la vita un giorno prese una barca e remando sino a spezzarsi le braccia raggiunse quella piccola spiaggia dove sorgeva quella casetta trovò la fanciulla cercò a gesti di farsi seguire ma poiché non veniva compresa si fece dare una ciocca di capelli e remando nuovamente sino a svenire tornò al castello dove trovò il principe disperato per la sua partenza perché mi hai lasciato perché piangi e che cosa è questo dei capelli capelli neri e di chi sono capelli di donna sì ho capito di donna sono della fanciulla che mi ha salvato dimmi dimmi dov'è portami da lei la sirenetta se avesse potuto parlare avrebbe voluto dirgli tante cose ma volendolo felice si accontentò di accompagnarlo dall'altra di vederlo sposo di danzare durante il banchetto di nozze e durante la notte si tuffò ma ma non era più una sirena e non sapeva nuotare cominciò a scendere verso il fondo a scendere sempre più giù sempre più giù sempre più giù ma era ma era una cosa molto molto diversa era come come se sognasse dolcemente e allora si abbandonò e sentì nel cuore nascerle una strana felicità tu voli sirenetta lontano 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 da noi verso un mondo dove troverai la migliore delle felicità una guerra ragazzi era finita quando un soldato giovanissimo e perché no anche bello si vide comparire dinanzi una vecchia bruttissima buongiorno bel soldatino torni dalla guerra eh sì ed ho ancora molto da camminare prima di giungere alla mia povera casa povera eh dunque dunque ti piacerebbe essere ricco a tutti piacerebbe esserlo ma perché mi chiedi questo perché perché io volendo potrei darti la ricchezza solo che tu acconsentissi a quanto ti chiederò vedi quell'albero là internamente vuoto e ci si può calare sino in fondo io ti aiuterò con una corda appena sul fondo incontrerai un lungo sotterraneo illuminato da tre grandi potentissime lampade e vedrai di fronte a te tre porte guardate da tre cani uno più grosso dell'altro abbaglieranno non importa non avere paura ti darò io questo mio grembiule stregato potrai avvicinarti il primo uscio ed aprirlo dopo aver posto il cane sul grembiule e così per gli altri due in quelle camere troverai un'infinità di monete d'oro e potrai prenderne quante ne vorrai a me porterai il lacciarino che è nell'ultima camera solo quello vuoi? sì? eccoti i grembiule allora il soldato preso il grembiule si calò nel tronco dell'albero giunse nel sotterraneo si comportò con i cani come la strega gli aveva suggerito e nella prima stanza trovò monete di rame nella seconda d'argento nella terza d'oro finì naturalmente per riempirsi tasche zaino e quant'altro poteva di quest'ultime e visto in un angolo l'acciarino lo prese e aiutandosi con la corda tornò sulla strada bravissimo il mio giovanotto hai l'acciarino dammelo dammelo su su dammelo te lo darò ma dimmi prima che cosa ne farai questo non ti interessa hai preso le monete d'oro sì ed allora dammi il mio acciarino dammelo ti sbagli vecchiaccia della malora l'acciarino mi interessa molto poi perciò me lo tengo e se non te ne vai di rancorsa adopererò ancora una volta la spada per tagliarti la testa e via vattene vattene via il soldato aveva fatto la voce grossa e certi occhiacci che non promettevano nulla di buono la strega vista la cattiva parata non aspettò oltre e tiratasi su un po' le sottane filò via come il vento il soldato allora tutto allegro proseguì il suo cammino e a tarda sera giunse in una città scelse l'albergo più lussuoso e il giorno dopo rivestito di tutto punto prese a frequentare i migliori ambienti spendendo espandendo a profusione quando si hanno dei denari non mancano mai gli amici e di amici il nostro soldato se ne fece in gran quantità feste banchetti partite di caccia a non finire anzi a non finire no perché finirono per finire tutte quelle monete d'oro e da un'ora all'altra Guglielmo così si chiamava il soldato si trovò senza il becco di un quattrino senza amici come era da prevedere e relegato in una misera soffitta per giunta a stomaco vuoto meditava sulla situazione ed intanto caricava la pipa ma non trovando come accenderla pensò all'acciarino non appena l'ebbe battuto sulla pietra focaia udì un gran colpo di gong accidenti ma 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 è un acciarino magico il cane del sotterraneo si sono il cane del sotterraneo mi hai chiamato sei il mio padrone comanda e ti obbedirò eh io ho bisogno di denaro molto denaro come puoi procurarmene tu denaro ecco una borsa di monete d'oro ma è incredibile e potrò averne sempre quante ne vorrò basterà che tu me l'ordini viva ora si che farò vedere a quelli che si proclamavano miei amici chi sono ora si che non farò vedere molte cose si dicono e non si fanno una volta tornato ricco Guglielmo ricominciò la vita dissipata tra feste musiche danze e giochi ma ora pur avendo nuovamente compagnia e denaro a volontà si sentiva solo ed una sera preso l'acciarino lo battè sulla pietra focaia e come al solito mi hai chiamato? sei il mio padrone ha 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 comanda e ti obbedirò senti cane mio fedele ho saputo che il re di questo paese ha una figlia bellissima è così? è così mio padrone ebbene io vorrei che tu mi portassi qui la principessa puoi? non c'è nulla che non possa la principessa eccola corbezzoli è addormentata sembra una bambola di sogno un bacio solo un bacio Guglielmo ormai si era perdutamente innamorato della principessa Fiordaliso ed ogni sera batteva l'acciarino ed incaricava il cane di portargli a vedere mentre dormiva dal suo canto la principessa sognava ad essere andata in una bellissima casa e di essere stata baciata da un giovane fece questo sogno tante volte che un giorno lo raccontò alla regina sua madre faremo così io ti legherò la vita a questo piccolo sacchetto colmo di farina vedi il sacchetto ha un piccolo foro se il cane ti porrà sulla sua groppa il sacchetto lascerà cadere la farina e noi sapremo dove vieni portata e così avvenne e così avvenne la farina indicò alle guardie la casa di Guglielmo e senza che egli potesse neppure tentare di ribellarsi 4 e 4 e 4 8 fu preso e portato in piazza ascoltate cittadini quest'uomo si è reso reo del peggiore dei delitti ha ripetutamente tentato di rapire la vostra principessa e pertanto è stato condannato a morte a mezzo del taglio della testa hai da chiedere qualche cosa prima di morire straniero si esprimi pure il tuo desiderio vorrei maestà fumare per l'ultima volta la mia pipa ed accenderla col mio vecchio acciarino sono entrambi nella mia camera d'albergo sul tavolo si vada a prendere quanto ha detto il condannato ecco la tua pipa e il tuo acciarino fuma per l'ultima volta grazie maestà aiutatemi cari magici aiutatemi vogliono impiccarmi dobbiamo proprio dirvi ragazzi come andò a finire è facile i cani erano magici e fecero il vuoto addirittura non risparmiarono nessuno re e regina compresi chi restò la principessa che nonostante tutto aveva preso ad amare quel giovane il popolo si sa è sempre con il più forte e perciò acclamò il soldatino che sposò la principessa e finì per divenire re e finì per divenire